La pandemia, quante volte l'abbiamo detto, ha aumentato le disuguaglianze sociali nella salute, nella qualità della vita, nell'accesso anche alle cure. Se poi noi ci rivolgiamo a quel target da noi abbastanza prediletto, insieme con i giovani abbiamo gli anziani, e lo sapete bene, e se sono anziani fragili, con patologie magari croniche, ecco che il rischio è di avere peggiorata ancora di più la propria qualità di vita. Ma per fortuna, ce lo dice un grande esperto, un grande geriatra, il presidente della Società Italiana di Psicogeriatria, e il nostro ospite odierno, il professor Marco Trabucchi, tra poco lo vedremo, ci dice che il PNRR, anche di questo piano abbiamo spesso parlato, sta aprendo nuove importanti prospettive in molti ambiti, che riguarda appunto il mondo degli anziani. Dopo la sigla abbiamo con noi il professor Trabucchi. Il Covid-19 avrebbe drammaticamente portato alla ribalta la popolazione anziana, lo sappiamo, il primo tempo quanto drammatica e tragica sia stata, e oggi quali effetti ci sono sulle condizioni di vita dei più fragili, e prossimamente che cosa aspetta loro. Con noi è il professor Marco Trabucchi, presidente della Società Italiana di Psicogeriatria, grande geriatra al cospetto del cielo, lo si può ben dire, e che salutiamo. Benvenuto professore in trasmissione. Grazie, grazie per l'invito che mi avete rivolto, che mi fa molto piacere. Dunque, il Covid avrebbe appunto degli effetti sulle condizioni di vita dei più fragili abbastanza consistenti. Partiamo da qua, prima di vedere quali sbocchi di positività ci riserva il PNRR, che era l'oggetto dell'articolo suo da cui io sono partito. E le chiederei anche, dopo gli effetti, di capire quali le lezioni imparate, o che dovremmo aver imparato, a proposito del Covid e degli anziani. Allora, schematicamente, dobbiamo dire che il Covid ci ha lasciato alcune eredità, in particolare le ha lasciate agli anziani fragili. Prima di tutto, il problema del post-Covid. Se volete, non colpisce più del 25-20% delle persone, ma certamente quando colpisce un anziano lascia un segno particolarmente difficile, doloroso, soprattutto a livello dell'encefalo, perché noi parliamo di foggy brain, di cervello annebbiato, e a livello delle articolazioni, oltre che di altre, anche del cuore, ma delle articolazioni con dolore, dolore muscolare, dolore articolare. Ecco, questo è uno dei segnali che il Covid ha lasciato una traccia. Ci stiamo lavorando molto per capire cosa è possibile fare, in quali sono i fattori di rischio, però questo è un problema. Una certa quota, per fortuna non maggioritaria, degli anziani fragili, soffre di conseguenza a lungo termine. Poi vi è l'altra componente, invece quella più diretta, del fatto di essere stati esposti a questo tsunami drammatico degli anni scorsi. Il primo sono le paure. Voi direte le paure, uno se le fa passare, no. Le paure, la tragedia del Covid ha lasciato molta paura, ha lasciato molta incertezza, ha lasciato molta difficoltà nel riprendere i contatti, e quindi purtroppo si sta instaurando, per fortuna e non in tutti gli anziani, una situazione per cui la chiusura ha prodotto limiti all'attività fisica, all'attività psichica, all'attivazione e contemporaneamente però anche oggi quando c'è qualche segno di liberazione, qualche segno di minore preoccupazione, le persone tendono ancora a rallentare, le persone anziane, hanno ancora paura e d'altra parte noi non ci sentiamo realisticamente di dar loro torto. Questo susseguirsi di attese, speranze, speranze deluse, nuove minacce, rischia di soffocare qualsiasi desiderio di uscirne. Non c'è di peggio, se ci pensate. Siamo stati in piccola parte, se volete, vittime anche noi, che abbiamo degli strumenti riconoscitivi particolari, ma questo susseguirsi di notizie, di caldo e freddo, notizie buone, notizie tristi, notizie difficili, ha stroncato molti anziani, i quali hanno perso la speranza, guardano il futuro con rassegnazione, accettano tutto, ma l'accettano senza più la voglia di vivere. E questa è una conseguenza pesante e negativa. Per moltissimi anziani il rischio più grande, lei ce l'ha appena sottolineato, è proprio la difficoltà anche di tornare a quelle condizioni funzionali, le cognitive più importanti, le psicosociali anche precedenti la pandemia. E allora, provazio Trabucchi, quali azioni mettere in atto da subito per fronteggiare le conseguenze su anziani, grandi, vecchi, immaginando di volerne anche, se possibile, migliorare il proprio futuro? Perché il futuro, lei ce lo sta dicendo, se lo devono vedere davanti, non devono avere paura di non avere futuro. Io credo che non sarà in ogni modo impresa facilissima cambiare questo. Le attività da fare, a mio giudizio, nella schematica, sono due o tre. Primo, le comunità devono farsi carico di questo dolore, di questa espressione di solitudine, che anche, magari, che non è reale, ma che è percepita. E quindi le comunità devono avere, le comunità ai vari livelli, devono avere particolarmente attenzione verso gli anziani. Occorrerebbe che ci fosse una sensibilità tale, per cui la collettività si accorge, qualche anziano non sta, è in crisi, non ce la fa più. purtroppo, la nostra collettività sono spesso dominate dalla solitudine, dal disinteresse, dalla scarsa partecipazione. Una volta c'erano luoghi di incontro più intensi di oggi, dalle osterie alle chiese, adesso non voglio essere blasfemo, ma erano luoghi dove ci si trovava, dove si mancava una persona più di un pomeriggio rispetto al consueto, qualche d'uno se ne occupava. Adesso questo non c'è più. Poi, avvisare le famiglie. Sappiate che i vostri anziani sono più a rischio di solitudine, di ansia, di delusione, di paura, di mancanza di speranza per il futuro. Rendetevene conto, non fate finta di niente. Io credo che dobbiamo guardare le famiglie con uno sguardo di grande attenzione, ma anche abbastanza serio. guai se permettete che il vostro anziano vada per la sua strada da solo. Questa è una responsabilità pesante che in particolare noi medici sentiamo e poi l'altro punto è proprio quello dei servizi sanitari. Dobbiamo renderci conto che vi sono dei livelli oltre i quali occorre intervenire con gli interventi di tipo strettamente sanitario. Quando l'ansia, la depressione domina lo scenario in maniera tale da richiedere un intervento qualificato che può essere con i farmaci o senza i farmaci ma certamente un intervento professionalmente qualificato. Tra i problemi è giusto sottolineare come ha fatto il professor Trabucchi il tema dell'isolamento e della solitudine. Un anziano su cinque in Italia viveva già prima dell'arrivo del covid in una condizione di isolamento sociale. Pensiamo poi che cosa è successo dopo. Però professor Trabucchi quando lei dice monitoriamo questa popolazione e parla del territorio delle comunità lei sa perfettamente che sotto profilo della organizzazione sanitaria bisogna fare i conti con i servizi territoriali e quindi con la loro riforma così tanto vagheggiata insieme tra l'altro con quella ospedaliera ed è qua che forse possiamo vedere i contributi che ci possono venire appunto dal PNRR. Cosa dice? grande preoccupazione grande preoccupazione che preferisco non nascondere perché mi sentirei responsabile di questo tutti parlano parlano di muri parlano di attrezzature ma pochi si rendono conto che i muri diventano carta pesta se non sono riempiti di servizi validi se non sono riempiti di operatori quali hanno sensibilità per i bisogni veri della gente se non sono riempiti di partecipazione delle comunità quando si parla di assistenza territoriale assistenza domiciliare dobbiamo renderci conto che mettere in piedi un servizio è relativamente facile così come costruire una casa della comunità è facile costruire i muri dopo cosa ci mettiamo dentro? Quali operatori abbiamo oggi? Quanti anche in questo momento di grande crisi degli infermieri degli operatori sociosanitari dei medici stessi chi mettiamo a gestire questi servizi una volta e li abbiamo fatti partire e quindi c'è una certa preoccupazione ed anche un'esigenza di rapidità perché il PNR ci ha dato dei finanziamenti stratosferici rispetto a quelli che avevamo nel passato per questi servizi però se noi non li sappiamo utilizzare al meglio rischiamo davvero invece di pagare verso l'Europa con una figura negativa assoluta d'altra parte che fare occorre per esempio incominciare siamo già in estremo ritardo ad aumentare il numero dei medici aumentare il numero di infermieri formare più os e tutto questo vuol dire anche scusate la banalità se scendono pagarli meglio organizzare meglio il loro lavoro fare in modo che non capitino più situazioni come queste nei quali l'infermiera deve fare due notti di seguito di servizio senza sosta e poi poverina quando la notizia di questi giorni quando torna a casa in auto si addormenta e finisce contro un muro capite queste cose non devono più avvenire non devono più avvenire per il rispetto della generosità degli operatori e anche per il rispetto della loro dell'efficacia del loro lavoro verso le persone anziane fragili io sono molto preoccupato è inutile che lo nasconda perché non mi va di ottimismi di facciata abbiamo questi soldi nel 2026 cioè tra pochissimo tempo dovranno essere servizi che dovremmo gestire senza più i soldi dell'Europa come facciamo senza operatori ecco però d'altra parte voglio anche dire non voglio fare l'uccello del malaugurio dobbiamo provarci dobbiamo provarci disperatamente adesso per i prossimi anni dovremo importare una parola che non mi piace infermieri da altri paesi esteri però dopo li dovremo formare noi se siamo in grado di mettere insieme una macchina che pensa all'immediato e pensa al futuro forse riusciremo a dare risposte decenti il progetto Trebucchi ha toccato una delle criticità più forti che è quella della disponibilità del personale personale che sappia essere specializzato quando si ha a che fare con un mondo fragile come questo professore case di riposo ieri lei sa perfettamente quale paura ci fosse entrare per le persone che non soltanto per gli anziani ma anche per i familiari ci vedeva aumentare il rischio statistico di contagio oggi la nuova moda sembra essere quella di chiedere di entrare per trovare lì un po' di protezione e un po' di compagnia questo che cosa può significare? che il mondo dell'RSA è stato uno di quelli più danneggiati danneggiati oggettivamente poi danneggiati anche da stupide e cattive campagne di denigrazione e anche questo lo dico con grande tranquillità certo abbiamo avuto tutto il colpe in ambito medico non eravamo preparati non c'era ma dal ministero in giù e quindi è inutile addossare poi colpe specifiche soltanto da alcuni servizi adesso l'RSA proprio in questi giorni stanno lentamente ma progressivamente riaprendosi avendo capito che non è possibile non è possibile tenere gli ospiti lontani dai loro familiari l'abbiamo fatto nel momento più grave ma adesso con le vaccinazioni che vanno rese obbligatorie per chi accede a queste strutture dobbiamo avere non possiamo volere due cose contraddittorie dobbiamo rendere obbligatorie le vaccinazioni di chi frequenta le case di riposo e poi aprirci chi le frequenta vuol dire i familiari vuol dire gli altri operatori tutti gli operatori anche quelli collaterali e allora forse si potrà anche correre qualche rischio io sono convinto che la la certezza la sicurezza assoluta delle vicende umane non c'è mai dovremmo avere il coraggio di correre qualche rischio per incominciare a riprendere una vita una vita che dico normale dico normale già con un con un po' di coraggio perché purtroppo la vita delle persone e l'RSA non è mai normale è sempre una vita di chi è solo di chi è lontano dalle proprie famiglie dalle proprie speranze però noi avevamo l'obbligo di rendere queste loro difficoltà il più lievi possibili lei in una vecchia intervista noi ci conosciamo da parecchi anni e quindi posso proporre anche delle interviste con il professor Trabucchi io mi sono segnato una frase lei mi disse la vecchiaia non deve mai essere una condanna io ho la sensazione che molti nostri anziani nell'ultimo periodo abbiano sentito la vecchiaia come una condanna lei che dice? che confermo quella frase che le ho detto dottore non mi ricordo di quando sia ma perché ne sono ancora assolutamente assolutamente convinto e sappiamo bene che molte volte non è una condanna biologica non è una condanna clinica perché molti dei disturbi degli anziani possono essere in qualche modo presi in carico e tamponati se non guariti la condanna è se intorno la famiglia la comunità alle comunità a vari livelli ritengono che l'anziano sia un ammalato o una persona a perdere una persona per la quale non vale la pena di investire né affettivamente né praticamente né anche economicamente io ringrazio moltissimo il professor Marco Trabucchi presidente della società italiana di psicogeriatria l'ho riconquistata al mio microfono non la mollo più professore se ci sarà occasione e bisogno la chiamerò sempre grazie grazie dottore mi fa molto piacere buon lavoro a lei a questa significativa iniziativa che dirige grazie anche a lei professore buon lavoro grazie amici a voi soprattutto come sempre per l'ascolto e l'attenzione che ci date quotidianamente e domani immancabilmente ci si ritrova grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti